Per la nostra ciambella molto profumata andiamo a lavorare 2 uova con un pizzico di sale e 150 g di zucchero Proseguiamo con 100 ml di olio, questo è un olio di semi di girasole e un dolce davvero molto veloce da preparare Aggiungo quindi 2 vasetti di yogurt sempre al limone Vado ora a ricavare il succo di 2 limoni Aggiungo a 300 g di farina una bustina di lievito per dolci pari a 16 g e la aggiungiamo un po' per volta Aggiungo a 300 g di farina di lievito per dolci pari a 16 g Stampo da 24 cm oliato e infarinato Versiamo il composto Forniamo a 180 gradi per circa 35-40 minuti a forno ventilato Mi raccomando fate sempre la prova a stecchino per verificare la cottura interna del dolce Ed ecco la nostra ciambella al limone appena sfornata Facciamola raffreddare bene prima di toglierla dallo stampo Come sempre se la ricetta vi è piaciuta vi invitiamo a lasciarci un like un commento giù in fondo al video o ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qual volta pubblicheremo un nuovo video Alle prossime ricette Ciao a tutti i ragazzi Ciao a tutti i ragazzi